Non so cosa registrare e quindi registrerò questo file audio che userò per descrivere un mondo di Minecraft che viene completato con la battuta dell'ender dragon del nostro server Devo provare disperatamente il microfono e non so che cazzo fare in questo momento Devo masturbarmi fortissimo su questo microfono nuovo che ho comprato e quindi farò questo file audio C'è assolutamente da precisare che una delle nostre compagne stava giocando su Minecraft Pocket Edition Quindi potete immaginare che insomma Scendi 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 Guardami guardami Così guardi in avanti vai indietro Non so se funziona Ok no Devi fare un ascensore Poi vai in avanti Non riesco a stare dritta Perché lei ce la fai tu no? Dopo un po' mi... Oh destra destra Sali sulla barca 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 Scusa No sto uscendo Eh c'ho problemi c'ho problemi non ce la faccio Eh sono... Ok ci siamo ci siamo Andiamo a troverso il portale Eh che lato? Eh eccoci qua Ti va per primo Let's go Siamo nel land Benvenuto No Maledizione Vabbè Altro Ce n'è ancora uno Ce n'è ancora uno C'è ancora uno No Non ce n'è nessuno Sto guardando a viso Ah no no ce n'è uno No ma non si vedeva nemmeno Aspetta Ho distrutto ho distrutto Dai Dai ragazzo Ok Ho strength E' due scudi Dai ragazzo L'abbiamo così fatta Ahia Ahia Ok Il bigio Ma eravamo fino Perfetto Eh ci siamo preparati bene Ultima hit Che è morto Ultima hit Con il pisello Sì 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 ce la faccio ce la faccio Ce la faccio Sono troppi Ender Ce la faccio Ce la faccio io Vado io C'è un problema Ah 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 Sì ce la faccio Ah Sì Nitro Ho scoppňato tanto È entrato Sono più l'ríade Ale Che è che è morto qui Biki Prova Far Ah P мы Gold Dai 68 livelli Che figata Yes Abbiamo finito Minecraft Yeay Siii Dobbiamo prenderlo dopo però Aspetta faccio io faccio guarda come si fa slab sotto l'abbiamo fatta l'abbiamo fatta una casa signora abbiamo fatto sto laggando così tanto che mi state aspettando mettere musica divertente se solo non avessi le mani nel formaggio in questo momento la comunità di twitter cosa ne pensi della comunità di ok io sono riuscito a uscire o il cancro grazie anch'io e riccardo ma che gioco è questo quando è che facciamo e sconfiggiamo il guidero rega mai non ho ancora messo l'uovo stai calmo bastardo e riccardo cosa dicono i due parenti in egitto sono morti grande fa cagare adesso si che è bello non posso neanche vederlo non fa niente non ci sia riuscito a uscire non ci sia riuscito a uscire